Un gol pazzesco, è finita così, è finita, non c'è fallo, è finita! Andiamo subito a presentare il nostro ospite di oggi, gratitissimo, il capitano della nazionale maschile, Andrea Parisini. Ciao Andrea! Ciao Matteo, ciao, grazie mille per l'invito! Come stai? Innanzitutto. Tutto bene, tutto bene, siamo qui a Vigevano a passare queste cosiddette vacanze, però tutto bene, la salute, questa è quella che conta, sia la mia, la mia famiglia, il mio padre, i genitori della mia ragazza, quindi tutto perfetto. Gigi tu? Stai bene, sì, tutto a posto. Sì, sì, tutto bene, io oramai ho finito tutto quello che era la lista delle cose da fare, tutta quella che era la lista, quindi... Ah, hai più nulla, basta! No, non ho più nulla, oramai sto riniziando il giro, no? Tutto quello che è stato aggiustato in precedenza lo sto sfasciando per poi rimetterlo a posto, piuttosto che per cercare di continuare a impegnarmi. No, no, non è vero, adesso hai iniziato il lavoro, quindi di tempo per quello che ci piace ce n'è sempre meno, quindi bene così, tutto bene. Andre, io sono sicuro che tu non ti sia mai fermato in realtà con gli allenamenti per tenerti in forma. Quando ricominciate lì poi in Francia col campionato? Quando la preparazione, insomma, quando vi ritrovate? No, in teoria la preparazione è il 20 luglio, però essendo che ci stanno andando a fare non so quanti miliardi di test prima di ricominciare, l'appuntamento è una decina di giorni prima a Istria, in un solo periodo di tutto il gruppo, anche perché molti erano partiti, chi è come me straniero è già tornato a casa all'inizio, proprio prima che scattassi il lockdown anche in Francia, e molti altri francesi sono tornati comunque nelle loro città e quindi è da molto che non ci vediamo, quindi sarà anche due o tre giorni per ricreare quel gruppo che c'era prima e poi si inizierà con i test, però la vera preparazione in teoria inizia il 20 luglio. Ok, Caparezza cantava, virgolettato, il secondo album è sempre il più difficile nella carriera di un artista, questo voglio arrivare a dire, Andre, affermarsi è un conto, riconfermarsi è sicuramente poi la cosa, no, lo step è il gradino più alto da superare. Gigi, so che hai apprezzato la citazione. No, volevo arrivare a dire, Andre, sei stato eletto da una nota testata specialistica francese, rivelazione dell'anno della Lidl Star League, prossimo anno immagino che tutti, soprattutto la tua squadra, ma anche tu stesso, vi aspettiate una riconferma? Guarda, per me è stato un onore incredibile perché arrivare a giocare in Lidl Star League per me era già davvero tantissimo, poi all'inizio, soprattutto all'inizio di quegli allenamenti, di livello, avevo veramente paura di non di poter fallire, ma comunque di trovare molte più difficoltà di quelle che invece, grazie anche all'allenatore che mi ha subito fiducia, mi ha permesso di giocare molti minuti, e ai compagni di squadra che mi hanno permesso, poi soprattutto quei due o tre che mi davano molti palloni, mi hanno permesso di potermi esprimermi al meglio, e quindi è stato per me un grande onore ricevere questo premio, però sì, come dici tu, adesso arriva il duro perché comunque l'annata con Strasburgo era, sì, individualmente era andata molto bene perché ero stato giocatore del mese di febbraio, un'altra volta nominato ad aprile e nominato per i tre dei migliori pivoti è andata molto bene, però è uno sport di squadra la palamana e quindi avevamo fallito il nostro obiettivo che era la salvezza. Invece quest'anno per fortuna gli obiettivi, voi non vuoi, anche a causa del Covid, comunque gli obiettivi di squadra sono stati rispettati e ci siamo salvati, e in più anche individualmente è andata molto bene. L'anno prossimo sarà duro a riconfermarsi, questo è poco ma sicuro, ma gli allenatori già mi hanno dato un ruolo un po' più importante, ancora più importante nella squadra perché essendo che Grosas, che era il capo della difesa, andrà via, mi hanno nominato a me come il capo della difesa, ma non che solo difesa, nel senso che dovevo fare sia attacco che difesa, però una responsabilità in più, quindi mi hanno dato ancora più fiducia, e questo è una cosa che mi fa venire voglia ancora di più di allenarmi adesso, di essere prontissimo il 20 luglio. E poi l'obiettivo mio e quello del mister è che questa nomination della migliore rivelazione possa essere una nomination per uno dei tre migliori pivot, ovvio. È molto difficile, però io sogno in grande, quindi voglio farlo di tutto per essere, prima per raggiungere la salvezza con istra e poi per questo obiettivo individuale. Anche perché Gigi ci ha già dimostrato che ogni volta che sogna qualcosa poi ci riesce. Allora, infatti io prenderei spunto da quello che ha detto Andrea in questo momento, sogni in grande, io lo chiuserei con realizza i grandi sogni, perché in realtà parliamo di un personaggio della palla a mano che è entrato in teckel scivolata a gamba tesa su tutto quello che è il nostro mondo. Partito da Vigevano, Cologne, Carpi, Seconda Lega, Francese, Leader Star League, tutto in un amen. Solo grazie alla pandemia, al Covid-19, Sarkozy è rimasto al potere, perché se avessi continuato questa scesa, probabilmente l'avremmo avuto ai campi Elisi. Io sono veramente, essere fatto perché chiaramente, e soprattutto mi piace tantissimo sentirlo parlare, io l'ho conosciuto così e la mia gioia è nel ritrovarlo così, cioè queste altezze, queste vertigini ad Andrea non hanno dato la testa e si sente dalle sue parole. Quindi il fatto di essere elusingato, di essere stato investito da nuovi ruoli, ma comunque continua ad essere umile, perché uno che sogni in grande è abituato a non accontentarsi, ad abituarsi a spingere sempre il cuore oltre l'ostacolo, è uno come lui, è abituato a lavorare, perché questo, ne abbiamo parlato poco prima dell'intervista, lui è uno di quelli che è sicuramente di talento tantissimo, vuole da morire, intelligenza tattica, quanta ne vuoi, ma soprattutto ha una voglia, una capacità di abnegazione che è indispensabile per poter realizzare i propri soldi. Andrei? Grazie mille per le bellissime parole, Gigi, veramente grazie di cuore. Ma scherzo, ma fa sempre piacere che si chiede tante parole. Io l'ho conosciuto, Andrea, e dicevo Matteo, prima che... È uno dei tanti con cui hai giocato, della lunghissima lista. È uno che ho avuto l'onore, come dire, di battezzare, no? In una delle mie ultime comparse, in una delle ultime convocazioni, è stata una delle sue prime in realtà, no? Quindi ci siamo staffettati un po', chiaramente, all'interno della nazionale. Lui è già diventato capitano, in pochissimo tempo ha raccolto il testimone di Pasquale Maione, suo compagno di ruolo, che sono certo sia stato orgoglioso e soprattutto con l'anima e la coscienza apposto nel consegnare la fascia ad una persona come Andrea e, come dire, chi non potrebbe esserlo. Quindi stiamo in ottime mani. E con lui, e quindi passo la palla a Matteo, dietro di lui, accanto a lui, in quella stessa annata, penso che sia stata un'anata molto importante e probabilmente è lo snodo della palla a mano italiana. L'italiana passa per i 94, i 93, i 92, i 95, ho sbaglio? Sì, Andre, siete un gruppo piuttosto compatto in nazionale, diciamo, dai 92 più o meno in poi, un gruppo di giocatori che state facendo tutti, accumulando tutti esperienze importanti e l'abbiamo detto tante volte, avete praticamente rappresentato il ricambio generazionale della nazionale tra l'altro all'interno del quale si stanno inserendo anche ragazzi ancora più giovani come per esempio i gemelli Mengon, come Bortoli, però sicuramente possiamo guardare al futuro che non è tanto lontano in realtà e poi ne parleremo delle qualificazioni dei campionati europei, con fiducia, no? Sì, guarda, io ho fatto parte nelle azioni giovanili di questo gruppo 94-95 e sapevamo che eravamo un gruppo che poteva dare molto di più di quello che era stato dato perché non abbiamo mai avuto grandi exploit come ha fatto per esempio la generazione dei 2000 però sapevamo che Busiamini, Moretti, Sabiran, Sabellini, Sperti, avevamo un grande gruppo con la suono ai tempi che poi... Siamo già a 67? Siamo già a 67? Quindi è un ottimo numero per le percentuali delle annate? Sì, 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 e infatti poi si sono ritrovati pian piano chi prima e chi dopo nel gruppo della nazionale senior, come diceva Gigi poi quando a una delle sue ultime convocazioni per me era una delle prime invece Carlo e Gianluca era la piramide, c'eravamo già come Stabellini e quindi ci siamo ritrovati a essere noi, adesso siamo noi praticamente i vecchi della nazionale se vogliamo perché a parte Martin Sonner e Dean e Michele e poi tutti gli altri fanno parte del 94-95 perché anche Mimmo Ebner e Ardian Ippali che non facciamo parte della nostra nazionale giovanile comunque sono entrati a far parte della nazionale senior e poi come hai detto tu abbiamo già Jack Savini del 98 che comunque è l'annata prima dell'annata oro se vogliamo dire così, dei 2000 che stanno dando molti ragazzi giovanissimi a questa nazionale senior e secondo me il futuro può essere solo che Rosio perché è un gruppo giovane come ti ho detto io che ho 25 anni sono uno dei più anziani quando giochiamo a calcetto sono io che gioco con i vecchi Pensa tu Diceva qualcuno che il futuro è già qui, no? Perché è proprio vero, il futuro è già qui Pensa che Andrea ha appena detto in maniera impassante però se uno poi si ferma a pensare alle date lui è diventato vecchio dal gennaio 2017 al gennaio 2020 è passato ad essere giovane ad essere già vecchio in nazionale considerato tale questi sono proprio come lo spazio-tempo dello sport alcune volte è dilatato in eccesso e altre volte è costretto è stato un ricambio repentino diciamo sì, 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 decisamente repentino e quindi secondo me anche la brutta prova perché così possiamo chiamarla quella di gennaio a Benevento può essere anche data dall'inesperienza di un gruppo che comunque come ho detto è giovanissimo e si deve ancora far trovare pronto e si deve ancora secondo me far vedere le proprie le vere capacità dove veramente può arrivare questo gruppo che secondo me potrebbe arrivare beh lo spero perché è già capitano lo spero davvero tanto ma secondo me potremmo arrivare a qualificarci per un europeo o per un mondiale anche se è un po' più complicato il mondiale però il primo obiettivo secondo me è una qualificazione all'europeo ti chiedo una cosa sicuramente l'esperienza gioca un ruolo molto molto importante soprattutto perché siete giocatori tu e non soltanto che giocano ormai in campionati di primo ordine quindi probabilmente l'unico fattore che manca in questo momento è davvero l'esperienza c'è anche un fattore legato alla pressione degli eventi che è andata ad affrontare secondo te mi spiego meglio affrontate Ungheria e Russia e giochiamo come nazionale molto molto bene perché probabilmente affrontiamo consapevolmente due squadre che sono più forti di noi le affrontiamo con una tranquillità diversa poi dobbiamo giocare in casa siamo indicati forse con qualche pressione di troppo i favoriti del passaggio del turno e zoppichiamo un pochettino ed era già successo magari anche ai giochi del Mediterraneo no? precedenza dove era quasi dato per scontato il passaggio del turno in realtà poi non era scontato niente questo abbiamo sbagliato tutti nella valutazione secondo te c'è un fattore legato anche alla pressione dell'evento che si va ad affrontare? secondo me è proprio come hai detto tu potrei farti mille esempi però ci troviamo quest'anno per la prima volta penso che fosse la prima volta nella strada parma italiana dove c'erano così tanti giocatori che giocano fuori dall'Italia e avevamo un gruppo che a parte la Romania con la quale non vinciamo da parecchi anni penso Giorgio e Kosovo le hanno già battute in precedenza e quindi tutti pensavano che la sfida, quella decisiva per questa prequalificazione fosse Italia-Romania della domenica sera e quindi secondo me un po' di pressione ce l'abbiamo avuta perché comunque devi dimostrare che non giochi fuori solo perché hai avuto la fortuna ma devi dimostrare che giochi fuori per capacità e doti che hai e quindi ci siamo ritrovati un po' forse sotto pressione un po' di inesperienza perché come ha detto il gruppo giovane ci siamo ritrovati a prendere il gol del pareggio al Kosovo dall'ultimo secondo e dirci ah, cosa è successo? Cioè, cosa sta succedendo? Perché? E secondo me quel gol lì proprio all'ultimo secondo del Kosovo ci ha... ci ha cambiato la storia diciamo poi di tutto il gironice sì sì e invece già che il Mediterraneo arrivavamo, sì da un ottimo risultato contro l'Ucraina e nel gruppo con l'Ucraina la Romania le isole Faroe e poi ci siamo trovati a fare un ottimo Adriatic Cup contro tre comunque forti nazionali a vincere questo torneo qua e quindi forse eravamo molto sicuri di noi stessi anche se questo sapevamo che comunque affrontavano la classe d'Algeria che non è che sono due nazionali così senza una storia e non so se siamo andati troppo sicuri di noi stessi o probabilmente ci siamo accorti che il nostro livello probabilmente in quel momento era quello lì anche se penso che non abbiamo dato il massimo a giochi veterraneo come a gennaio a Benevento Gigi tu l'esempio che posso farti è come quando quest'anno noi siamo andati a Montpellier a giocare che sapevamo di perdere di 10 giochi con una disipoltura fuori di testa cerchi cose che non proveresti neanche in allenamento e ti ritrovi a vincere ma quando poi in casa viene lo short o giochi con Ketail dei match per la salvezza sia molto più trattenuto e lì ti si perde il match che invece in teoria potresti vincere tranquillamente certo Gigi è quasi una cosa scontata però scontata non è poi è una massima questa è una delle leggi dello sport non scritte vecchia come la notte dei tempi cioè innanzitutto che le grosse delusioni nascono dalle grandi aspettative quindi perché siamo rimasti tutti male maggiormente perché questa nazionale ha avuto grosse aspettative perché se le merita perché se è fatta di un gruppo e di persone che valgono quindi sappiamo il loro valore e sappiamo che possiamo togliere delle grosse soddisfazioni con loro quindi quando questo non arriva chiaramente si arriva di fronte alle delusioni e poi questo è collegato al fatto che chiaramente chi non ha niente da perdere gioca in modo più disinvolto ma questo da sempre in ogni sport in ogni categoria perché ha a che fare con la psicologia dei giocatori con la psicologia delle persone cioè quando tu non hai grosse pressioni non hai niente da perdere male che cedevi solamente per assurdo limitare i danni guarda caso come per magia lì subentrano le migliori prestazioni arrivano le migliori prestazioni perché si è con uno stato d'animo positivo più rilassato comunque vada sarà un successo e guarda che alla fine spesso e volentieri quello che lo sport ci ha insegnato le classiche belle vittorie di Davide contro Golia nascono da queste situazioni dove magari la squadra più forte e più quotata al contrario prende sotto gamba al contrario non si aspetta una reazione una disinvoltura da parte della squadra meno blasonata ed è lì che magari ci si sveglia al sessantesimo nella palla a mano o al novantesimo come può essere nel calcio e la frittata è fatta e purtroppo abbiamo gli esempi pieni gli almanacchi di ogni sport certo e adesso se la legge è cadere e rialzarsi ci sono le qualificazioni agli europei del 2022 che iniziano a novembre martedì 16 giugno c'è il sorteggio Andrea hai visto un po' le fasce hai dato un'occhiata sì sì ho visto che siamo in fascia 4 e anzi ho subito chiamato Riccardo quando ho visto questo che noi in fascia 4 e Belgio in fascia 3 ero un po' diciamo arrabbiato per questa cosa qui perché ovviamente essere in fascia 4 non aiuta per niente perché noi per esempio l'anno scorso abbiamo beccato la Slovacchia della fascia 3 che comunque siamo riusciti a vincere due volte ma è una signora squadra quindi ovviamente se non hai fortuna in queste qualificazioni qui ci puoi mettere tutta propria che vuoi però devi essere anche un po' fortunato ecco però io penso che noi possiamo fare il Tatan Precio no ma in realtà poi su questo la Slovacchia in questo giro è chiamiamola fortunata è già qualificata perché ospita le ospita in casa quindi però mi piacerebbe mi piacerebbe trovare il Belgio per dimostrare che non è il Belgio che merita la fascia 3 ma l'Italia ecco questa è una cosa che mi piaceva proprio tanto ok quindi hai puntato il mirino sul Belgio diciamo sì 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 perché ce l'ho proprio qua che non mi va giù che loro possano essere in fascia 3 e noi no questo proprio non mi va giù certo però l'altro è una squadra non so se c'eri tu in campo che è stata affrontata in amichevole forse qualche tempo fa a Fondi però sì a Fondi sì sì dove riuscimo a vincerne una delle due pareggiando la seconda se non sbaglio esatto sì 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 e poi fascia 2 e fascia 1 invece oddio fascia 2 si oscilla un po' no la leggo Austria Bielorussia Portogallo Macedonia Serbia Russia Montenegro e Olanda si oscilla tra squadre che starebbero bene anche in fascia 1 e squadre invece che potrebbero essere anche in fascia 3 esatto esatto sì sì ti ripeto ovvio che se trovi un girone con Francia della fascia 1 Portogallo della fascia 2 e nella fascia 3 non so chi si sta di forte è normale che Svizzera Polonia Romania esatto la fortuna non vuole proprio guardarti in faccia però non siamo stati fortunati nello scorso sorteggio speriamo di essere un po' di più in questo ecco diciamo così anche perché poi penso che la stessa regola sarà anche per il posto in qualificazione è vero che contano solo i punti che fai contro le prime due per rientrare per rientrare per rientrare come migliore terza sì esatto e quindi noi penso che per esempio abbiamo vinto due partite contro la Slovacchia e in realtà non sono servita niente perché la regola diceva così di fatto sì 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 confermo il regolamento è lo stesso quindi hai comunque bisogno per rientrare nella lotta delle terze di fare punti con una squadra di prima o seconda fascia sostanzialmente però io ho visto anche per esempio il Portogallo che comunque è una signor nazione che non è che abbia fatto un miracolo però quasi diciamo a andare a vincere contro la Francia nella prima giornata degli ultimi degli ultimi europei e comunque arrivare mi sembravo quinto o sesta e quindi qualificarsi anche per un posto alle Olimpiadi diciamo che il Portogallo è arrivato a far questo insomma noi con questo gruppo qua è uno stimo esatto possiamo possiamo anche noi dire la nostra secondo me ovvio non è da un giorno all'altro che si è stato all'europeo però diciamo che le basi per fare cercare questa qualificazione e poi costruire qualcosa di veramente importante ci sono tutte ecco Gigi Matteo la mia considerazione abbraccia un po' ed è continuo di quello che abbiamo detto poc'anzi è un po' mixato anche a quello che ha detto adesso Andrea cioè l'augurio della mia l'augurio e la consapevolezza la speranza che ho in questo gruppo è proprio questa cioè che tutta questa consapevolezza cioè tutto quello che ci siamo detti prima il fatto di prendere sotto gamba l'aspetto la normalità delle cose cioè che la squadra più forte sottovaluta la squadra più debole e non ha niente da perdere poi in realtà è tutto vero ma nella mediocrità delle cose nella normalità delle cose poi in realtà la squadra che sa vincere qual è? quella che riesce a trovare un equilibrio in base al quale si riaffrontano le partite tutte quasi allo stesso modo e questo è che impedisce questo andamento sinusetale e questi spalsi di comportamento delle squadre so che Riccardo Trillini è uno molto attento a questa cosa e so perfettamente che la maturità di questa nazionale e l'acquisizione dell'esperienza passa non può non passare attraverso questo lavoro che mira il raggiungimento dell'equilibrio che passa per la consapevolezza squadra che deve avere la consapevolezza dei propri mezzi lavorare 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 per arrivare ad affrontare tutte le squadre allo stesso modo e questa è una via che può portarci verso grosse soddisfazioni non credi Matteo assolutamente d'accordo con te Andre siamo in chiusura cioè siamo ci avviamo verso la fine intanto ti chiedo se hai dato un'occhiata un po' al mercato scoppiettante italiano e se hai già chiesto a Stefano Arceri quale sarà il suo menù in Finlandia no ho visto adesso mi sembra ieri hanno annunciato uno degli ultimi colpi che è non vorrei sbagliare il cognome Nilsson 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 a Conversano da Siena a Conversano che è un ottimo colpo sinceramente io quando ho visto che sia Ardian che Dainese che Hendrit che anche il portiere andavano via da Conversano non mi aspettavo un colpo così da Conversano quindi vuol dire che comunque non vogliono fare un'apparizione l'anno prossimo vogliono giocare comunque per il titolo come stiamo facendo quest'anno poi ho visto che Bolzano ha perso ottimi talenti come Mate come Stefano e quindi dovranno cercare di penso che comunque Bolzano abbia dei giocatori che che non importa se ne perdono due o tre hanno comunque quei due o tre giocatori di spessore come Felipe come Dejan come Mario come Martinson che possono fare comunque la differenza nonostante l'età avanzi nonostante tutto e poi ho visto Cassano ha fatto un gran colpo anche se ha perso un ottimo giocatore come Jack ma ne ha trovato un altro come Ardian che penso che una squadra come Cassano possa fare davvero davvero bene e no Stefano che è il menù che scende quando abbiamo ancora chiesto però da Tiramano non so come faccia in Finlandia però esatto dagli arrosticini al salmone è dura è un po' di grassi diciamo secondo me gli arrosticini di salmone non sono la stessa cosa non c'è la stessa cosa no se mi ricordi qualche stage fatto in Finlandia ti posso garantire che ho trovato di meglio nella mia vita diciamo così bene e invece che obiettivo ti sei posto a medio termine diciamo per quanto ti riguarda obiettivo personale provo a dire provo a dire qualcosa io Champions League ma è quello è il mio sogno è è se hai bisogno della della mia carriera riuscire a giocare ma tu non dormi mai Andrea è sempre una serie di sogni sono tutti sogni evidentemente anzi dormi sempre perché stai sempre sognando ma in realtà ne hai realizzati così tanto che incrociamo le dita perché sei addirittura d'arrivo vai esatto per ora sono riuscito sono riuscito a realizzare i miei sogni i miei obiettivi non con pochi sacrifici questo è sicuro però adesso ti ripeto il mio primo obiettivo è quello che l'anno prossimo voglio dimostrare sul campo che non è stato solo un anno fortunato per me e che anche gli istri non è stata solo fortunata che il campionato si è fermato anche se in quel momento lì avevamo comunque 4 punti di vantaggio sulla sulla zona rossa e quindi vogliamo dimostrare a tutti quanti che ci potevano salvare come l'anno scorso ci potevano salvare quest'anno questi sono i primi due obiettivi e poi e poi spero in un'annata buona che possa magari portare a una chiamata da qualche squadra diciamo importante ecco così non voglio sbilanciarmi troppo no no non ci sbilanciamo hai già detto tutto diciamo che questo covid ha bloccato anche qualche trattativa che c'era già in corso però meglio così ancora di più dimostrare l'anno prossimo e poi si vedrà bene Gigi se vuoi chiudere velocemente così ma chiudere io do un abbraccio se non vuoi non chiudere come vuoi se non vuoi non devi chiudere come vuoi diciamo così facciamo tutto aperto un abbraccio Andrea un arrivederci non vedo l'ora di poter continuare a commentare le sue partite sottolineando e rimarcando la sua grinta che diciamo non l'abbiamo menzionata però Andrea è un giocatore che in campo dà una carica e una grinta dal primo all'ultimo minuto e quindi è un esempio per gli altri dai più giovani ai più vecchi quindi insomma bene così un abbraccio in bocca al lupo per tutto e continua a realizzare i tuoi sogni lasciando qualcosa anche agli altri però eh grazie mille Gigi anche io spero di spero di rivedervi il prima possibile perché vuol dire che siamo siamo potuti tornare in campo finalmente perché questa tesola mi sta distruggendo però anche spero di rivedervi presto e un abbraccio anche a te grazie Andre grazie Gigi noi ci ritroviamo la settimana prossima e grazie naturalmente anche a voi che avete scelto di ascoltare il podcast dedicato alla palla a mano Handball Talk buona palla a mano a tutti alla prossima Grazie a tutti